Ma che cazzo è? Ma che è? Oh 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 Mi stai prendendo per il culo A PITI A PITI Ciao a tutti banaloni miei benvenuti in questo live commentary qui su amnesia the dark ascendant in una mod presa da un sito di merda delle mod e bensì questa è darkroom come vedete da qua ed è stata creata da danagor rorgon e drago striker quindi ringraziamo questi due mister x perché non si sa chi cazzo sono E quindi ringraziamo questi due uomini per averci dato questa bellissima mod e leggiamo un po' Final new horror has came, you wake up in a dark room in the shadow, there is some time lurking in an extreme environment that no one has ever escaped from Naggia capito nucaz, inizio Andiamo avanti Allora, premetto che questo sarà un video molto breve perché io mi cago sotto in una maniera assurda Ecco apposta, già i corridoi sono delle cose estreme Uh, oddio Ok, perfetto Mi sono ricordato i comandi Ora, porta Entriamo Ehm Come vi dicevo io non sono un gran giocatore di questi Maglioli Oddio maiali Oddio è schifo Magliale Aspetta, aspetta Magliale Magliale Vabbè basta Ok, ehm Questi sono i sacchi di ceci Questi sono i ceci qua dentro Ma dai ti opono i ceci Ok, non servono un cazzo Ehm Apriamo l'armadio Ok, non c'è un cazzo Ok, non c'è un cazzo Ora Visto che non c'è un cazzo ci mettiamo una bella scatola dentro Uhuh Chiudiamo Eh, dai cazzo Uh Si è realizzato un sogno Chiudere una scatola in un armadio Hehehe Allora, là c'è Una porta Sì, se non mi sbaglio è chiusa Dobbiamo trovare una chiave Allora Qua Una o due porte Mmm Altre due porte Mmm Apriamo questa Troppo buio Lasciamola va Hehehe Apriamo questa Oh my fucking god Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Eeeh Allora ci sarà qualcosa in questa Uff Oh my god Cos'è? Una pelliccia? Ah no è melma È melma Non c'è un cazzo in questa No no Mette troppo ansia sta cosa Eeeh Scatole Mi sono scortato le scatole C'è sempre qualcosa sotto le scatole Via scatola Scatola Vai via scatola E questo Mi è stato consigliato appunto da Davidone Questa mod La title Oh Vedi c'è una chiave C'è sempre qualcosa in mezzo alle scatole Spendila Ok andiamo Eeeh Questa mod mi è stata consigliata da Davidone Mi ha detto Eeeh Inizio con questa Perché tu Essendo abituato Cioè non Non facendo mai video horror Barili di merda Di mono Ok Eeeh Non essendo abituato a fare Eeeh Dove Ti caghi in mano Quindi Dei video di Di giochi horror Come si fa qua Camera destra Sinistra Ok Ok Non essendo abituato a Videogiochi horror Attento quando trovi Di video di abituato a Di video di abituato a Ok Vabbè sti cazzi Eeeh Eeeh Calamaio Eeeh Eeeh Cioè mi ha detto Proprio questa Perché Eeeh Far ridere Ho detto far ridere Cioè come far ridere Una cosa del genere Mi sto cagando in mano Anche se non è successo niente Cassetti Abbiamo cassetti Ok non c'è un cazzo Mi fa far ridere Poi scoprirai il perché Mi ha detto Cioè la musichetta Trololololol sotto E ho detto Oddio Chissà come l'avranno inserita Uh Chiave Eeeh Ecco facciamoci Avviciniamoci Prendiamo questa chiave Succederà un casino No Non è successo un cazzo Ok Pensavo Pensavo che faceva cagare in mano Tipo Una cifra Cioè Tipo Ok Eeeh Tipo Cioè io non c'ho ancora una Mi brucia la gamba Ok Da adesso siamo venuti Quindi ci sarà Cosa qua Mamma mia che ansia Ste porte che non si aprono Perché si è aperta Perché Non potevi rimanere chiusa Ok Eeeh E quindi niente Non No Dai E' troppo buio Succederà qualcosa Ma che cazzo Ma che cazzo è Perché c'è la musichetta Di tre Apriti Oh ma sta arrivando Ma siamo scherzo C'è questa cazzo Di musicetta Io non so più che fare Mi sto seguendo Se non levo Non sta musichetta Però io Perché c'ero Che devo fare Ora Sta qua vicino Sta qua vicino Non c'è tu Non c'è tu Ma io mi sto cagando Sotto te Non ce la faccio Mi sto seguendo Però Mi sto piccando Perché Questa mod Cioè Non è che Fa cagare in mano Però Quel cazzo Di mostro Con quella faccia Trollosa Ora che mi arriverà Perché c'è questa musica Vale Sto morendo Va bene Ok basta Basta Musichetta di merda Basta Ma mi sta prendendo Per il culo Sta molto Mamma mia Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Mi sta prendendo Per il culo Abiti Abiti Cazzo Cazzo Gnan 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 Ma tu stai scherzando Ma tu stai scherzando Vabbè Proprio continuare Questa mod Ragazzi Ma sono stato Cioè E' stata una cosa Adesso dove sono All'armadio Ma io là dentro Non ci torno Non mi frega niente Ragazzi basta Usciamo Salva ed esci E' una cosa Assurda E ragazzi Spero comunque Vi sia piaciuto Questo Episodio Anche se io Non riesco a parlare Molto Perché fa morire Però almeno vi faccio Vedere la mod Sì Mi devo impegnare Un po' di più Avete ragione E ci vediamo Nel prossimo Episodio Della Barkroom E sperando di riuscire A fare qualcosa Di più decente Di questo Quindi Ciao a tutti Ragazzi Anzi Ciao a tutti Bananoni miei